Ciao a tutte ragazze, un video breve perché faccio uno spacchettamento di un pacchetto inviatomi da Sephora in quanto ho acquistato una cosa appunto da Sephora Italia online di Joella e 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 ecco qui il pacco regalo blu ed eccola qui la palette di Zoeva la caramel menage devo dire la Bartolini quando avevo saputo che l'avrebbe spedita la Bartolini ero terrorizzata vi devo dire la verità perché a parte che non avevo ricevuto tanta tante educazione volte precedenti dove ogni volta scendere eccetera invece il corriere stato gentilissimo è ed eccola qui la caramel melange della Zoeva c'è che cosa sono questi colori questi aranciati queste oddio sono scriventissimi c'è è qualcosa di stupendo questo marrone un pochino vinaccio cioè dei colori stupendi dico stupendi la palette è è abbastanza grande le scialde sono abbastanza grandi e che dirvi finora quello che ho visto è che sono scriventissimi colori e che ha un marrone che è particolarissimo vi faccio lo swatch e che sicuramente vi farò un tutorial con questa palette di appunto come abbino i colori da me è tutto l'ho spacchettata con voi un bacione e alla prossima vediamo vediamo qui vediamo qui